Al mio tre, un, due, tre sorrisone, tre, tre, e rammassare. Sono venuta a Roma principalmente per prendere dei chili, però siccome volevo farmi pagare il viaggio dall'azienda, perché c'è questo tema, io volevo venire a Roma, però se non faccio qualcosa, l'azienda non mi fa usare la carta di credito aziendale. Allora mi sono inventata durante la pandemia per gabbare la mia azienda il furgoncino, così lo porto in giro e ho la scusa per usare le carte di credito aziendali. Perché Roma? Perché prima di tutto io già Roma rosico, come dicono a Roma, che non c'è il negozio, quindi già rosico, però ci sono dei progetti. E quindi Roma per quello, perché insomma è la capitale, cioè mi sembra di ricordare che va bene Milano, ma la capitale è sempre Roma, è per me una città in cui sono seguitissima e quindi importante commercialmente. Perché Garbatella? Perché l'idea appunto non era andare in un posto mainstream e io di Roma non ne so niente, però ho Fabrizio che è il mio art director che è romano e gli ho detto dove andiamo? E lui mi ha detto Garbatella e io, ok, mi sono fidata, lui conosce Roma molto bene. Tutte queste operazioni sono operazioni in perdita, perché lo capisci tu da sola quanti prodotti possiamo vendere, cioè sono operazioni in perdita, sono operazioni che hanno un ritorno d'immagine e soprattutto di voler far capire chi siamo, cioè quali valori sposa il brand. Secondo me in questo momento chiunque di noi quando spende dei soldi vuole sapere anche che idee ha chi li prende quei soldi. Spesso nelle amministrazioni comunali se dici influencer dipende con chi stai parlando, se davanti hai una persona che lo sa e che ha potuto capire la potenza mediatica, bene, ma ti capita anche di parlare con gente che non sa di cosa stai parlando. In questo senso diamo a Chiara Verragni il merito di aver cominciato a far capire a tutti chi è un influencer e cosa può fare, quando è andata agli uffizi, cioè diamo il merito a Chiara anche durante la pandemia con la raccolta fondi di aver fatto capire a tutta Italia, forse anche a mia mamma, no mia mamma no, però insomma mia mamma è veramente un caso limite, per aver fatto capire anche alla signora Maria, chiamiamola, che esistono queste persone che comunicano non sulla televisione che si guarda di solito, non sul giornale, ma che raggiungono un sacco di persone e hanno un potere comunicativo, sono dei canali televisivi a tutti gli effetti. Daie, credo che ormai è nazionale, non è più solo, non prendetevi ormai daie, in questo momento daie, credo che sia diventato motto nazionale.